Sapesse contessa che cosa m'ha detto un caro parente dell'occupazione che quella gentaglia rinchiusa lì dentro di libero amore ma c'è a professione del resto mia cara di che si stupisce anche l'operaio vuole il figlio dottore e pensi che ambiente che può venire fuori non c'è più morale contessa se il vento fischiava ora fischia più forte le idee di rivolta non sono mai morte se c'è chi lo afferma non state a sentire c'è uno che vuole soltanto tradire se c'è chi lo afferma scutategli addosso la bandiera rossa gettato in un cosso voi gente per bene che pace cercate la pace per far quello che voi volete ma se questo è il prezzo vogliamo la guerra vogliamo vedervi finire sotto a terra ma se questo è il prezzo l'abbiamo pagato nessuno più al mondo deve essere sfruttato ma se questo è il prezzo l'abbiamo pagato nessuno più al mondo deve essere sfruttato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti